Da dicembre siamo senza casa, sono andato in comune mille volte, sempre la stessa risposta, non ci sono case, massimo mi danno un contributo economico per tre mesi e poi basta. E così Andrea, la moglie Maria Simona e le tre figlie di 22, 15 anni e 10 mesi utilizzano l'auto come casa, ferma nel parcheggio di un condominio Ater in via Prebello a Favaro Veneto. Cambiamo i pannolini in macchina alla bambina, si darmi in macchina, mangiamo in macchina, tutto in macchina, si fa. E poi durante il giorno? Si, si arangia, andiamo in passeggiata se c'è il sole, se c'è la piazza, restiamo in macchina, si arangia. C'era freddo, mi toccava andare in giro per i bar, stare al caldo per i bar, perché in macchina è sempre impossibile. Per le emergenze Andrea e Maria Simona si appoggiano al nonno delle figlie che non può ospitarli vivendo in casa con la moglie malata. Di notte le ragazze e la bimba neonata dormono da lui, mentre i genitori in auto. L'unica soluzione proposta comporterebbe la divisione della famiglia e loro non ci stanno. L'unica cosa da fare per me e le due piccole, i minore anni, sono di andare in comunità. Mio marito è la figlia più grande e si andavano a arrangiare e così la mia famiglia ci disgrega. Il comune di Favaro poi non si è mosso, non ha fatto una chiamata, perché non l'ha fatta la chiamata il comune, non so perché. Ma aspettiamo una chiamata del comune di Favaro adesso. Andrea e Maria Simona hanno entrambi un lavoro a tempo indeterminato, ma ha chiamata e quindi non trovano qualcuno che gli affitti una casa, avendo poca costanza. Non resta che rivolgersi al comune.